Per Lega 2 e Daily Basket, quali sono state le impressioni sulla partita di stasera? Adesso c'è grande delusione perché è una partita che avevamo cominciato a giocare molto bene, avevamo in controllo, soprattutto per quello che riguarda la parte difensiva. Poi siamo andati in secondo tempo non concentrati, non con la stessa voglia di rubare palloni, loro sono riusciti a ritornare in partita con canestri facili e poi sulle episodi, le partite possono sempre decidere una pagina nell'altra.